ragazzi ragazzi rieccoci qua su dying light 2 buonasera a tutti siamo riusciti a risolvere non si spera il problema che si è verificato la volta scorsa cioè il tizio immortale morto ma che non era morto insomma semplicemente abbiamo siamo usciti dal menu e siamo rientrati esatto esatto quindi rifacciamoci un attimo il pezzettino qua lo scontro e vediamo se si va tutto bene va speriamo c'è stato un altro aggiornamento sì sì a me mi si erano corrotti file per cambiare ho temuto il peggio invece poi alla fine ho riprovato sembra essere tutto a posto vediamo adesso forse io non ho non ho più il rampino nel menu eh non lo so guarda io c'ho sempre l'indicatore del rampino anche se non l'ho equipaggiato però no io effettivamente ce l'ho equipaggiato aspetta però aspetta un attimo scusa fammi vedere che arma c'ho equipaggiata questa 157 di danno ma vabbè me li one shot tutti con questo vabbè io vado con l'arco eh ve lo dico vabbè ho sbagliato oppa eccolo eccoli vado a avere il Q ah madonna dai ah ecco c'erano solo questi due ah bene no obiettivo allora andiamo ah vedi questo non eh eccolo vedi eh 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 si era buggato cosa fa ma perché va di là che siamo di qua ma sono qui ma eh chi c'è ci spostiamo noi ah guardava di là ma si boh vabbè era giù non mi ah bene vai vai is that what you wanted are you really ready to kill me for that key hakon so many people have died already you can't stop the wheel from turning now but you had a chance to kill me to take it from me at the bazaar what changed what do you think kid you promised to get me out of the city we had a deal but then you ratted me out and you think waltz will just let you go just like that you know what he did to dylan to to all the others yeah but they all stood in his way dylan betrayed him lucas wouldn't give up the key so so you murdered him the key is my pass out of the city real fucking shame I have to kill you ma scusa è così difficile lasciare la città non ho capito ma adesso io l'ho one shot madonna che danno oh è cala ma no abbiamo un'arma devastante guarda se non ci eravamo sentiti male era morto ma scappato dai perché non diventiamo mega mostro dai maybe but you don't want to see me I ain't as pretty as before we've both seen your biomarker you're not gonna find me in time che vuol di eh boh non ho capito non ho guardato io che c'ha il biomarker siamo delle bestie eh ma no no tu sei normale ma dove sta questo cretino adesso ci arrampichiamo non so magari è quassù non so istinto 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 ma è che era così ah forse forse là oddio aspetta qui c'è un no non c'è non è vero c'è qualche no ah sì va che c'è la lampada qui oh ah ecco com'era levati leo levati dunque com'era per lasciare il grilletto madonna mi sembri un deficiente ma questa faccenda no devi cambiare arma devi cambiare arma ah giusto è un po' che non ci giochiamo aspetta devo mettere ma dove ce l'avevo il rampino ah ecco il rampino aspetta insomma ah no come stai guardando ah lì beh un attimo ma io il rampino ce l'ho selezionato non ho più il rampino dunque eh ma non leva l'arma questo cretino come la levo l'arma io eh no nel menu nel menu o se non è equipaggiato non lo so eh ce l'ho il rampino eh dai eeeh eccolo qua così c'ho la torcia UV così c'ho il rampino eh con il grilletto se non mi leva l'arma eh ho capito ma se non mi leva l'arma come la posso levare l'arma aspetta no ma se usi il rampino si leva da sola no eh a me no eh come no ma no ma come no scusa oh 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 no 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 Aiden oh da qua penso vado 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 attendi c'è scritto attendi no eh no eh mica si si è buggata aspetta ci allontaniamo e magari proviamo di qua blocca vieni qua ma dove sei ah qua si è aperta ah ma allora fa la stessa storia dell'altra volta ti ricordi ah no questo dobbiamo impiare per forza da una porta no 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 aspetta qua c'è ancora attendi no apri apri adesso apri ah adesso funziona ok ma scusa ah ah how many people have you betrayed hacon killian frank lawan why did you betray her frank told you about the tv station told you i chickened out right well he's wrong about that it was a suicide mission and lawan why did you leave her what how do you know about that just answer the question i made a deal with the devil and she had her own hell to deal with what are you talking about i left to protect her if i'd stayed walt would have had her killed so why did you work with him why did you betray frank i didn't i didn't betray frank i was trying to fix things after the tv station i was planning to spy on waltz but he got suspicious threatened to kill lawan and now it's too late ma ancora ma scusa ma lascia metà vita gli hai tolto eh io te l'ho detto eh mi spiace ma è morto sorry hakon i didn't want this frank Frank, è Aiden. Hakkard è morto. Oh, no. Mi sapevo che questo succederà. Beh, tornare a Fisheye. Ho sentito qualcosa di più di Waltz. Il è andato a Villedor, Aiden. Il personale che ha trappato è un doctorale di GRE. Questo è relato con il database? Sì, e credo che conosco il personale che è dopo. Senti, è successa una cosa strana. Cioè? Mi sono curata. Vedi che ho un pezzettino di vita che non ce l'ho? Sì. Ma non mi ha curato. Ma come? Riprova, riprova. No, magari non mi ha curato abbastanza. Ma no, quello. No, niente proprio, guarda. Aspetta. Hai visto? Eh, allora. Ho preso un colpo. Vabbè, stavamo. Pensavo che avevi visto Dio. Vabbè, andate qua. Senti, io però non voglio uscire perché ci sono noi morti, noi infetti, noi robe. Ma no. Tutto... Ma no, ma com'è possibile? Senti. Senti, Hakon. anche se è un buon sogno cosa sta succedendo qui? Frank mi ha detto come si è bruciato con i Nightrunners ogni giorno, ho pensato se le cose avessero cambiato diversamente se io ero qui se i miei amici saremmo vivo so che non posso portare a nessuno ma ho fatto una chiusura potrei provare a Frank e Lawan non combattiamo se ti avvicini non avrò scelta vabbè, penso che in entrambi i casi no, secondo me è così tipo una minaccia se ti avvicini non avrò scelta invece così non combattiamo, siano più diplomatici eh dai allora non combattiamo non voglio combatterti più, Hakon nemmeno io, figlio nemmeno io nemmeno sono così caldo è stato molto caldo è abbastanza una sprazione, eh? Ah... ...I was worried that I'd have to learn surfing on my own. Thanks for softening them up for me. Ah, it's my ray of sunshine. With a lethal crossbow. Shut the fuck up. Good thing you didn't finish me off, Aiden. Or she would have been pissed. With what? How did you... Have my own connections. Try to stop me, and we're no longer friends, Aiden. No, no. Fai ciò che devi, ascoltami la One, non lo fare. Ma io la lascio fare, a me che me ne freccio. Ma si, fai ciò che devi. Ma si. È la tua scelta, Luan. Fai ciò che devi fare. Questo è quello che sto parlando. E ciò che devo fare è... Please. Oh, f***a questo! Come on. I thought you were more of a one-shot kill chick. It just f***ing hurts! Are you okay? I don't know. I thought I would feel better. But... I don't... This... This doesn't change anything. I mean, so he's dead. He deserved it, and he's dead. But... So what? Well, he was on your list. Plenty of people on my list. And each time I cross a name off the list, I... I feel the same. What if I've been fooling myself? I don't want to wait. Vabbè, ma noi eravamo detto, però, eh, che non serviva a niente. Eh, in effetti sì. Eh, sì. Eh... Però io abbiamo dato una scelta. Eh, oh. Però, scusa, in teoria... Che prima Aikon sembrava abbastanza morto, quando... Gli hai dato il colpo di grande. Eh, ma infatti, cioè, non so, neanche... C'è... Rest in peace. Ma... Resta sedu... Resta sdraiato, no? Sì, ma resta morto in eterno, per favore. Cioè... Ma infatti è un miracolo che sei alzato in piedi e parlava, eh. Cioè, scusa. Vabbè. Come hai fatto, non lo so. Vabbè. Vabbè. Da. No, sta pazza. Aspetta... Ok. Ah, ok. Qua. C'è stato un problemino, vero? Sì, un lag... Laggoso. Dove dobbiamo andare, adesso? Frank? C'è su un punto di riferimento? Pronto? Morto. Non c'è stato un problema. Non c'è stato di giudicare, Frank. Non c'è stato di saluto. Non c'è stato di saluto, Frank. Come sono in canteen, Aiden. Ma parleremo. Ho qualche nuova per te. Ecco un rest in peace Dove devi andare? Parla con Frank Ah, dell'acqua Siamo in acqua, no? Sì, un bel bagno Sì Hai portato il bagno a schiuma? Non credo ci sei in giro No? Vabbè, siamo le alghe Vabbè, è il piano dei alghi Vediamo al S lunga se c'è Al S lunga Ma tu dici che c'è al S lunga Non credo Da me comunque c'è il CTS, te lo dico Eh, va bene, dai, ma stai su supermercato Sì, sì, sono i mercati CTS Si trova di tutto e di più Vabbè, quel c'è spuglio mi sembrava un ragno Ho detto, ma allora hanno veramente Sì, perché avviando il gioco C'era il messaggio che hanno aggiunto Nuovi Oh, Dio Nuovi mostri No, ma dai Dove sei? Eh, sono cascata di sotto Vabbè Ma inizio ad andare avanti Poi Sì, poi io ti raggiungo a piedi Tu raggiungi Ce l'hai l'indicatore, no? Lo vedi l'indicatore giallo Sì Miracolosamente torno al punto subito Ehi, attenzione C'è, attenzione, attenzione Qui Che c'è roba No Oddio Ma Mi sento un po' impedita con i Comandi E stai mica giocando a The Ring Ah, giusto Ma Doshat è quando si gioca a tanti giochi Sì, no E i comandi Insieme Solo Infatti non potrebbero Avere che ogni gioco è a sé, però Più o meno farli simili Eh, sì Sarebbe Meglio Ok Perché adesso, per esempio Mi viene da saltare con A Perché nel The Ring salto con A Sì Quindi è un bordello Sì, sì, anch'io Confondo, confondo So, so Niente, a me sto cazzo De parevi in Dio che non c'ho Mi dura da 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 Santo Stefano Vabbè, un giorno Insomma Eh, proprio un giorno Good, good Ha detto Capito? Ah, good? Era buono Cioè, se la sua nesta la canta Ah Boh, vediamo qui Se lo dice da solo che il volo è andato bene Geronimo Dai, ce la puoi fare, va là Ce la puoi fare, ce la puoi fare Io credo in te Ok, io sono arrivato Allora, rugola Ecco, anch'io Anch'io Sto salendo Sono salita Eccomi qua La manovella, ma sto arrivata Sono qua, dove vai? Ah Eh, ma sta qua Qui, no, è qui, è qui, è qui È qui, è qui Eh Mi fido Eh Ah, perché si poteva anche da sotto Ma scusa Ah Allora, come ti dico io, sotto, vedi La scala Eh Eh, che ne so Salve Salve, salve Dica Beh È tutto nio È tutto nio Not just for her But For all of us Hack on, you bastard I'm this close to drinking again Cause of you For all the good times And bad But I'm not going backwards I'm not Gonna fall down that hole again Yeah Sleep well, friend I've contacted some of the Nightrunners, Aiden Those who are still alive Killian should be here Anytime soon Killian from Old Villador? Same one Speaking of Old Villador You have to get to the Bazaar, Aiden She's waiting for you Waiting for me? Who? The GRE doctor Waltz is probably after When you mentioned the Bazaar I was able to get in touch with her She can help you find Mir Her name is Veronica Ryan I remember her She's one of the first people I met After I came to the city We were acquainted once She used to come to the canteen You'll find us somewhere in the vicinity of the church Good luck Aiden With everything I know I'm not going to die Veronica will wait for you forever C'è una missione Veronica C'è un punto combattimento Io abilità Abilità, sì, esatto E dunque Ti giri di Adan, dai, e costo 180 Ma perché mi dovrei girare mentre corro di 180 gradi? Sì, esatto Sì, esatto in scivolata No Eh, questo dovrebbe essere utile Lo saprei Io non uso niente di tutto ciò Manco io Vabbè, prendo questo Va bene, va bene Trova Veronica Ryan Allora, andiamo Ma mi sa che dobbiamo tornare in ito col teletrasporto Teletrasporto? Eh sì, ha detto di andare a Old Villador Che è la prima mappa Eh, allora dobbiamo andare, sì Aspetta Qua, ok Eh sì Dobbiamo andare qua Io vado, eh A Villador? Dov'è a Vill... Ah, sì, aspetta Qua Ok Vediamo un attimo Arrivo Ah, però Aspetta un attimo Abbiamo fatto una cosa brutta Ah no È qua, è qua Meno male Ok, posto No, ok No No, pensavo che non si potesse tornare indietro Eh no Ormai l'abbiamo sbloccata No, no L'abbiamo sbloccata Sì, sì, sì È ancora giorno Che strano Ormai Perché? No, che in genere è sempre notte Ma no Madonna, ti vedo fare delle cose 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 Spettacolari Sì Oh Eh No, di guai Dica Perché siete Ho fatto una cazzata Stai Cioè Mi sono buttata Cioè mi sono buttata E sono anche quasi morta Vabbè È normale Ma come è normale Aspetta un attimo Dura No, no Tutto nella no Cioè ho fatto un lancio Mi sono lanciata nel vuoto Posto Siamo avanti Sì, eccomi Eccomi Ecco, vabbè Mi sono fatta male anche adesso Però meno di prima Prima Mi sono quasi tolta Tutta la vita Siamo pronti Poi è buio improvvisamente E devo Aspetta che voglio vendere un'altra Ah, giusto Giusto No Eh, c'è un 1880 Vendiamo Poi Eh, vendiamo Vendiamo Compriamo Cosa compriamo? 90, 125 Ah, 104 104 Però Io uso l'arco Tanto poi ci sei te che fai i danni Guarda Senti capito Uh, c'è una maschera da paintball Fa 7 Io la prendo Via Via Libero un po' di spazio Una giacca da rocchettaro Questa fa 6 Ah, ma c'è 154 danni Madonna Uh, guarda qui Uh 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 Due scarpette Non so quale prendere Tutti versi Ah C'è una scarpetta Che costa 3.465 denari Cioè È d'oro Io faccio una 6.281 Ah, e questa 10.680 Madonna Eh, ma cos'è? Cos'è? È di marca Siamo pazzi Oh Ma questa Potenza è bello Io voglio investire in un'attività E quando finisce tutto Eh sì, pure io Eh Ma io mi compro anche sta giochettella da rocchettaro Ah, aspetta I guantini? No C'è roba magari Ah, questo è di livello 6 Allora, vediamo un po' Vediamo un po' Adesso mi cambio, eh Adesso mi cambio Ho deciso che mi cambi Meglio questa Io Sì Allora Ho preso Ecco ho preso Maschera da paintball Ma questo Ah no Ah, ecco ho preso questa Eh Ti è Certo mi dispiace Per chi si copre tutta la faccia Eeeh Vabbè Senti Vedi se te vuoi essere utile Che ne so Questa per esempio Te la lascio a terra Che cos'è? Ho questo Forse quell'altro Lascio tutto Lasci tutto Cos'è? È tutta roba che non metto Poi qui che avevo comprato Ah, questo forse No Non è possibile Ho comprato questo Ma dov'è? Ah, fammi vedere Questo Maschera Eeeh Filtro è tipo Volvere Ho fatto una cappellata No No Danni armi a distanza Più quattro Parcura Da spiegare La violenza Costo vigore Armi a distanza Ma io non uso Armi a distanza Lo capite? Beh, sto usando io Quanto noi leggeri Da judging Da judging Ma che c'ho qua? Darcere Per danni armi a distanza Ma perché io non so questa roba? Aspetta, cazzoni da arcere Ho sbagliato Uh, forse questo Molto meglio Molto meglio Ecco Ma forse c'è un problema Da judging Da judging No, no, no Non ce l'avevo E poi le scarpette Invece l'ho comprata Le scarpette Eccole qua Da tank Tank Di tank E io ho venduto Un po' di indumenti Eh, infatti Allora Vendo questa Questa ce l'avevo Vaggiata Vendo questa Qui non lo so Questa non ce l'ho E voi facciamo Vabbè Io sono A posto Direi Metto questa No Sì Eh, ogni tanto ci vuole Oh, no Mi vedi vestita? Sì Oh, oddio Ho sbagliato Ma Eh Aspetta perché Aspetta perché Io mi sono dimenticata La cosa più importante Cosa? Le mutande? Esatto Ma non avevo comprato Una giacca Io nuova È questa Ah, è questa È questa È questa Ah, qui? Ah, qui? Cosa ho trovato Trovato il punto Per andare avanti con la missione Ah, ok Vediamo allora Qua Da lui Madonna De lui Eh? Scatti, scatti Vai Come va? Come va? Come va? Come va? E come sta Sofie And, uh, how's Sophie doing? Oh, yeah That's major news She's the big boss now I'm sure she is After all that happened Folks finally realized We needed a real leader I'd say things have turned out The way they always should have been Good for her And for all of old Villador Vabbè He visto la dottoressa Ryan I'm looking for Dr. Veronica Ryan You're not the only one, man What do you mean? The good doctor's in trouble And, uh, weird kind of trouble You see, a group of renegades Appared in old Villador First, we braced ourselves For another battle But they didn't attack the bazaar Just asked for Dr. Ryan Of course we didn't tell them Where she is And where is Veronica? You can tell me, right? In a hideout Vincenzo and a few of our people Are protecting her there But the less people know About that place The safer she is Where is it, Barney? If the renegades are hunting Veronica A few people may not be enough You just can't walk away From a fight, can you? The building is north of Quarry End Courtesan Rose Street But you didn't hear it from me Why are you here and not with Vincenzo and the rest? I wanted to be But Sophie talked me out of it Said something about not wanting them to have to deal with my attitude What attitude for fuck's sake I have no idea Okay Thanks for the info I'll go and give them a hand The folks say I'm the one I was itching for a fight Anyway Good luck, man Good luck, man Good night Good night, fucker He was a nightrunner It's a nascondiglio Ah, luce I don't know male Vengo da una sessione lunga di The Ring Mi sono trovando malissimo con i comandi Malissimo Poi ti vedo scattare Io non lo so Fai delle cose Eh, perché sono troppo veloce O vai a rallentatore O scivoli via Ehm, che è questo? Ah Ecco, lui piglia Cioè, c'è il paramedicio Così io Ecco L'ho preso e già cambia Va bene La Salve No, no No, no Io non volevo Me ne vado, me ne vado Vedi Eh, dove? I think this is all a test from God Eh, dove, stop, stop, stop Oh, she said Oh 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 La Mmm 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 la forse salve no ogni tanto parte la musica ma dove la sopra ma dove no 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 passa oltre salve ah niente non si arrampica io sono arrivato eh io muo' arrivo eh aspetti eh un attimo che liscio che liscio ed è stiamo a fare delle figure veramente sta facendo notte quindi eh sì ma molto improvvisamente proprio ma no è sera è sera eh sto coglione non si ecco ecco c'è sta musica che non so perché c'è sta musica vabbè non te vedo non te vedo non me oh 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 mi sto piccando come se non ci fossero domani domani no ma pazzai che volo non me la tirà una corda però eh e qua sullo stand di panni aspetta e dai però no vabbè si è incastrato leo scusami vedi una corda ah ok posso oddio c'è c'è gente c'è gente ah ho questa no ogni dia vabbè ma non faccio niente praticamente no no sei lì tanto fa tutto l'arma peccato che consuma un sacco di vigore e beh però è forte eh eh si è molto forte molto forte Scassina facile Salve Ecco, becchio tu questo E te Ma lei, cioè li stende tutti così Spaccò tutto Spaccò tutto Ho deciso di spaccare tutto Ecco qua Dobbiamo prendere qualcosa? Denari, niente Ah qui c'è una nota Qua c'è Passaggio, no No, sembra il vino in alto No E che dobbiamo fare? Di grazia Scassina media Ah va, di valenza Aperto Qui Ah E chi è questo? Qui Ah, Vincenzo Sui, dove è Veronica? No, no, no She managed to escape mi bisogna parlare con te. Dr. Ryan, io sono Aiden. Mi sapevo che sei scontato dai renegati. Sì, Aiden. Più più renegati dovrebbero essere qui ogni minuto. Frank ha detto che hai lavorato per la GRE. Ho bisogno di accesso al database GRE in l'Observatore. Ho una keya di GRE. Una keya di accesso? Questo è quello che ho detto. Hai pensi che puoi... Siamo incontriamo. Io sarò in una piccola bambina da l'Observatore. Ok. Allora... Ciao? Si attenzione, Aiden. Il posto è sfruttato in chimiche. Spero. Grazie per la scuola, Vincenzo. Grazie a te. Sono fortunato che hai arrivato. Arrivederci, Aiden. Arrivederci. Addio perché... Eh perché non muore. Moriamo? No, lui non è messo male, dai. No, è peggio. Adesso guarisce. Eh... Si. Lo dici di te. La piantina e via. E... Dove dobbiamo... Dobbiamo... Dobbiamo uscire? Ehm... Chi è? Si... No, guardavo però... Chi va là? C'è niente. 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 Frighe e Vodo qui a spesa non lo fanno mai proprio. Che vergogna. Infatti, come si fa, cioè? Ma... Dove siamo? Dov'è che eravamo entrati? Sì, scusi... Oh. Ehm... Dunque. Ehm... Dalla porta. Ma... Ah no, da qua, vieni. Dal buco. Cucina. Ma... Ah, sì, sì. Aia. C'è qualcuno? Eh, ma te li... Li sciotti tutti. Eh, guarda. Incredibile. Così. Basta? Sono finito. Muove. Ah, muove. Ok. Ehm... Un chilometro e sei. Aspetta un attimo. Ferma. Apri la mappa. Eh... Non è che siamo messi bene. Bisogna... Bisogna tornare dall'altra parte? Forse. Aspetta. Levati da là. Levati da là che sta arrivando... Oh. Il mostro... Aspetta che guardo. Sì, dobbiamo andare dall'al... Ma nemmeno dall'altra parte. Fuori dalla mappa? Sì. Ma scusa. Ma come... Come ci si arriva? Eh, io direi facciamo il viaggio... Si può fare il viaggio rapido qua, no? Dall'altra parte. Non si può fare il viaggio rapido. Ma no, ma come ci si arriva qui, scusa? Allora, usiamo il teletrasporto per andare a querriende. Poi dall'andiamo a piedi. Penso che si potrebbero andare a piedi. Ma... Boh? Eh... È l'unico. Ma scusa. Qui il viaggio rapido non si può fare. Non è che ci dobbiamo buttarci da un palazzo? Per caso? Ma io... No, forse no. Col parapendio... Eh, no, non credo. Eh, c'è... Non ce l'ho il parapendio. E come... Allora, io direi di fare il viaggio rapido fino a querriende. Sì, sì. E poi provare da lì. Vabbè. Fatto. Arrivo. C'è come... A piedi. Ma... Qui non è l'Utanis. No. Qui ci sono i notturni? No, qui... C'è più nessuno. No, però ci saranno i notturni. Scusa, eh. Eh, ma... La via per... Cioè, dov... Ci sarà una via, no? Ma dov... Che dè? Eh? Ah, il segnale che sta diventando notte. Sì, sì. Ma noi andiamo avanti lo stesso... Ma io non è che... Cioè, faria meno. Come dire... Ma... Ma... E si arrampiti. Geronimo... Ho un punto abilità, attenzione. Aspetta. Attenzione, attenzione. Parkour, parkour. Sì, lo metto, aspetta. Ah, fammi curare, ah. Salto nemico. Ah, sì, dai. Salto sui nemici. Ah, sennò... Io intanto mi avvio perché se tu puoi... No, forse è meglio questo. ...prendi il paravendio. Va bene, sì, sì, vai, vai. Io intanto ho finito. Aspetta. Aspetta. È là. È mo' sicuramente è là. Ci si può arrivare col paravendio. E io non ci arrivo però. Aspetta, magari c'è una via. No, area chimica. Eh. Oh, io sono arrivato qui. Aspetta. È buio. Aiuto. Area chimica. Area chimica. Qua. Aspetta. Io sono arrivato qua. E piove. Piove, aria chimica. Piove, aria chimica. Piove, acido. Piove, acido. Ma allora, aspetta un attimo. Ma. Dobbiamo andare sul ponte noi. Te lo dico io. No, e ora come ci arrivo? Aspetta. Vieni con me, vieni con me. Aspetta perché. Da dove ti sei arrampicato? Eh. 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 Oh, aria chimica. Ma è tutto chimico qua. Aspetta. Oh. Accidenti. Scusa, eh. No. Dai, Aiden. Niente, sono morta. Dove sei? Ok. Ah, non sei morta. Oh. No, non sono morta. Ma io ho sto dubbio che secondo me bisogna usare il parapendio. Quello non lo so. Però aspetta. Qui sei in un inibitore. Qua c'è un punto di domanda. Eh. Eh no, sennò diceva su, no? Cioè, ti ha messo direttamente alla nostra destinazione. Proprio diretti, no? Eh, sennò tu vai. Però non... Secondo me si raggiunge dall'altra mappa, non da questa. Scusa, andiamo nell'altra mappa. Teletrasporto. Ma dove? Nell'altra mappa. Ah, te qua? Eh, non lo so però. Vediamo. E dove ti sei teletrasportato che io non ce l'ho qua? C'è la metropolitana. No? Beh no, sì. No? Come no? No. Non ce l'ho la metropolitana. Fammi vedere se mi dice... Qua, dove sono io? Eh, ho capito. Eh... Non ce l'ho io. Non ce l'ho. Allora, teletrasportati dove sono io col gioco. Com'è che era? Freccia giù? Eh, aspetta. E se vado alla metro? Forse dalla metro ci possono venire da te? Eh... Prova. Si, si. Se mi dà l'opzione. Ok? Ok? Cosa si può? Eh... Tu sei imperdibile. Eh, no. Non mi lascio vedere l'aspetaglio. Ma manco uno altro punto. Oh, madonna. Vedi che bisognava andar di qua? Mi faccio morire, aspetta che non muoio. Mi faccio morire. Mi faccio morire così. Moritemi. 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 Ecco, qua dentro. Bravissimi. Bravissimi. Caccia a livello 4. Ma io non mi sto muovendo. Moritemi pure. Oggi muoio instant. Credibile. Un'altra volta non... No, è vero. Eri super resistente. Eri super resistente. Invece siamo instant. Tutta gente. Bisogna andar di qua, però... C'è... L'ultimo punto della storia. L'apparizione del sopravvissuto. Boh, vi faccio un ultimo punto della storia. Vediamo dove mi porta. Dove sei? Sei già arrivata? Eh sì? Eccomi. Ma scusa, aspetta. Ma... Oh, porca. Ma... Eh sì, devi venire tu qua, eh? Eh sì? Ma pensa a te. Quasi mi ammazzo anch'io. Eh, ma ti conviene. Eh... Eh... Aspetta. Salve. Un attimo che adesso arriva... Leo e... Le diciamo quattro parole. Però curati. Curati. Io? Eh. Ma sto così bene? Sto una favola? Eh... Curiamoci. Eh, non si sa mai. Metti che cadi... Oppure ti... Ti danno una bottarella. Eh... Poi muori. Ti vado a arrivare qua. Signorina, scusi, eh. Il mio amico è un po' lento. Sa... 50 metri circa. Non si preoccupa. Questo arriva, eh. Scoperto diga. Ma scusa, dove sei? Oltre il muro. Certo, sono entrata. Ma scusa. Eccomi. Eh... Ma dove sei tu? Dall'altra parte, ma... Eh no, devi venire in perdita. Eh, un attimo. Mi perdoni, ma... Ecco. Ecco, venghi, venghi. Non ci arrivo. Dove sta andando? Sta tornando indietro. Aspè, non ci arrivo. Venghi, venghi qui. Su, su. Oh, ecco. Preso, preso. Preso, preso. Preso, preso. Ci sono. Venghi. 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 Qui, qui. Qui, qui. Qui, qui. Mi vede? No. Accendo e spengo la torcia. Accendo e spengo la torcia. Aiuto, sono finito in acqua. Venghi. Ecco, ecco, ecco. Bravo. Venghi. Di qua, di qua. Vadi, vadi. Vado, vado. Ecco. Ecco. Non fidarti di Veronica. Di Lady Mia. Non fidarti di lei. Eh, no, ci deve aiutare. Scusa, come faccio? Eh, come fa? Scusa. Venghi. C'è un problema, come fa? Scusa è un problema. No, c'è un riso. Non c'è un riso. Non c'è un riso. Non vedo la mia in 15 anni. Un riso? C'è un riso? C'è un riso? Non c'è un riso? Non c'è un riso. Non c'è un riso. C'è un sacer di casa che ho ho. C'è un riso. C'è un riso che ho fatto. C'è un riso che ha fatto aiutare noi. Wals? C'è un riso. C'è un ricroché. C'è un hobby per experimentare a loro figli. C'è un riso. Che ti interessa quel posto? E' solo un docetico medio-level, Aiden. Scusate. Vuoi sapere qualcosa di altro? O possiamo andare? Perché ti interessa aiutami? Stai cercando qualcosa nel database? Aiden, questi vault contengono i segreti delle mie organizzazioni. Mi sono quasi morto perché ero parte dell'anno. I need to know what they were hiding. What if you don't like what you discover? Nothing ventured, nothing gained. How did a GRE doctor wind up at the bazaar? By not letting anyone know I was a GRE doctor. After the revolution, the GRE were blamed for the disaster. Personnel were rounded up and... ...executed. People used revenge to relieve the pain. Doesn't matter if it doesn't work. What happened happened. Now I'm someone else. How are you planning to get us inside the observatory? Look, there's a security tunnel into the complex. It was locked up years ago. Give me the key, Aiden. I'm not sure the key is functional. I'm not sure the key is functional. But it has been. Maybe the problem is that the building has no electricity. Is there any other way to get in there? It depends how much we're prepared to risk. A lot, if you ask me. Okay. And come with me. I have something to show you. L'impressione che non ci piacerà quello che ci mostrerà. Oh. Dobbiamo riattivare la corrente. Il solito... Ma è... Eh sì, ma... Il solito trantram. In che posto? Vincini la torcia. Vincini la torcia. Dove è andata, scusa? Ma è uscita. Ma io l'ho vista qua. Aspetta. Vedo i fantasmi. Sì, per... Perché c'è una moto? Ma. Che cavolo. Ah, là. Sì, dica. Sì, puoi evitare di mettersi pose... Oh, sì. Ehm... Perché solo per me? Ehm... No, you probably think I'm a coward. Not at all. I think it took Guts to come here. So let's do this. When you get there, first restore the power. Then I'll be able to join you. Hold out your arm. Remember, the shot shields you from the chemicals for a limited time only. Can't I take the other one, too? No, not at the same time. This stuff's too strong. Go as fast as you can to the smaller dome. And from there to the higher one. You should find a door leading inside. There. You'll be safe. Then head to the B block. There you should find the building's main circuit breaker. As soon as you turn on the electricity, the security door will unlock. And I can join you by going through the tunnel I showed you. Now go. The blocker is working. Vabbè, ma... Le sostanze chimiche non ci fanno niente adesso. The blocker is working. Allora corri. No, no, 50 secondi, ma dai. Corri, corri. Corri. Corri, cretino, corri. Ma, qua, qua. No! Perché sei fermato sto cretino? Mi segua, mi segua. Ok, 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 ok. E qua? Oh, non so, non si arrampica. Vai di qua. Eh, aspetta, di qua. No. Andiamo? Andiamo? Dove sei andato? Sono qui. Oh. Oh, portai. I've made through the chemicals to the first dome. Great. Now just get to the second one. Find the door, a hatch, or whatever leads underground. Right. Ci sei? Dove sei? Ci sei? Si? Ah, rampino. Oddio, no. Oh, madonna Oh, porca Uii Dondola Apro Venga, venga Venga Ma perché all'inizio solo 50 secondi, no capito Ho trovato l'entranzo, adesso è così bene Ma come sai questo posto così bene, per l'altro? Stavo qui solo una volta, molto tempo Ma ho una buona memoria Si tratta di utile Beh, a volte è una cursa Sì Niente corrente Eh, ho capito, ma... Cosa è qua? Oh, ciò è Ok Vai al loco B Ha detto che ci proteggeva per qualche minuto, non per 50 secondi Eh, infatti Sì Ma qui non c'è nessuno, siamo sicuri? Ah, qui Controlla C'è gente Ho una corda infectata qui C***o Ho sperato che sia l'entranzo per ora Beh, non è Non so se potrei passare Usa la flashlight UV sul tuo belto Ma nooo Usiamo il... La mega ascia Usiamo la mega ascia Li ammazzi tutti Ma vai, li ammazzino un colpo solo C***o 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 E anche io, un attimo E' quasi Era zero Devi tenere la guarda Così Così Ok Dov'è? 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 Sento respirare non è Vada, vada, senza indugio, senza indugio Sbucano da ogni dove, vorrei altre frecce, infuocate, arrivo Pieno di gente, qua, qua, però, paura che, bel focherello Pieno di gente, qua, 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 qua Qual era questa? Santissima Ma quello è morto così? Ok Qui non ci possiamo andare, giusto? Ma dove? Lì in basso? Ah, sì Sull'acqua Penso di sì Dottore, chiami un dottore Zitti, zitti Eh, ho preso il volo, ho preso il volo Cosa, che dobbiamo uccidere prima tutto? Oh, anche io Posto Posto, posto Servono dei rivaldelli Scassina facile Scassina facile 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 Api api Ho visto qualcuno Pensa di essere Ok Devo curare Oh, pure io Sì, ma la cura è lentissima Cos'hai inalato, cos'hai inalato Eh sì, mi sono inalata quello che non dovevo Adesso mi devo curare Guarda chi c'è C'è Ciccio Formaggio Ciccio Formaggio E mo? Ciccio Formaggio Ciccio Formaggio Io me do No, guarda, è morto Ciccio Formaggio Guardi È morto Mi scusi, eh, se ho Ciccio Formaggio Io avevo un po' paura Ma no, questi sono grossi Ma è tutta apparente Ciccoloni Ciccoloni Ma dobbiamo andare di qua, eh? Ah, sì, sì, sì Eh, facevo bene a naso Potevamo anche lasciarlo giù Ciccio Formaggio Ciccio Formaggio Oh, attiva Attiviamo qui Sono morti tutti Eh? E però E però non dobbiamo toccare l'acqua Eh Sì, ma non ci doveva Non ci doveva Non ci doveva Ehi Eh, soffre di claustrofobria Se ne frega Se ne frega Se ne frega Tu dire? Eh, qua Eh, just, just a moment Just a moment Moment Dobbiamo andare Scusa 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 Ma che non è che cambia qualcosa se respiri Una pippa proprio questa Un attimo Un attimo Oh, eh Fammi 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 La giornata Eh, non è che se voli Cambia la cosa Ah, là, là Aspetta Non mi metti Non mi metti Non mi metti Ok Scusa 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 Non mi metti Aspetta Stai venendo qui o sei andato qui? Qua, qua Di qua Ah, di là? No, non è questo Ah, i cavi Ah, i cavi Aspetta C'è ancora la strada del cavo? Ma E dov'è l'altro? Qua c'è uno Cavo Dobbiamo trovare Dov'è Uh, ma bro Ma che davvero? Qui in giro c'era Eh, ma io non l'ho visto Eh, neanche io l'ho visto Vabbè, qua non credo Vabbè, qua non credo Qua sotto no Eh, si può battare la pesca No, però l'ha smesso di ridare eh Ah, è stata morta Ma... Di paura Guarda che qualcuno ha fatto Stato fuori Eh, insomma, voglio dire Ma scusa eh Vedere Ah, forse è qui No Dobbiamo portare il cavo No Ma dove porti? Eh, ma trovare il... trovarlo il cavo Perfetto Perché qua è dove dobbiamo attaccarlo Eh, e quindi ci deve essere un... Da qualche parte Un pannello dove prendere il cavo quindi Esatto Bene, ma io non vedo pannelli Ehm Oh, bella questa Sì, ti uso la direzza Che dice? Qui c'è robina Kit soccorso militare Vuoi arrivare questa? Ah, c'è... Scassina media Aspetta Senti così Sì Farina Orologio Ci facciamo il pane, no? Sì, sì La pizza La pizza La pizza Pane e pizza Il pane e pizza Ah, qui comunque non c'è, dai Eh, guarda, qui c'è una porta però Dove, dove? Allora, no, aspetta C'era una porta che bisognava aprire Che cazzo roba era? Non è che era indietro indietro forse? Perché non penso però No, secondo me era... Allì dove c'era quella porta da aprire Qua mi sembra troppo indietro Allora, stavamo... Ecco Ecco, stavamo qui, no? Vogliamo provare a... A questa porta qui Aprire questa porta qui? Vabbè, aspetta Che... Questa porta si apre Ok, aspetta Ragazzi sta qua dentro Vediamo Visto che... Il pannello sta là Qua è un snotte Ah, scassina facile, vediamo Però qui si apre da sola Ecco, l'ho trovato Vabbè, qua Già che ci siamo, non so Stacca E ora vado dritta per dritta, giusto? In teoria Io sto prendo casse, intanto Sì Non mi interessa Aggancia, gavo Ecco Questa è fatta E ma E dove stanno gli esciuti sui lì? Vengo lì da te No, mi sa che sei tu Dalla parte giusta Ah, ah sì, infatti Ok E' finita anche la musica di Psygo Sì Ecco, gli elevetò Gli elevetò Ding dong Che faccia diciamo? Eh beh, insomma Prova a calmare Calmiamola Prova a calmare Sì Sì Oh Sì Vabbè, allora andiamo dritta Allora andiamo dritta Allora andiamo dritta Oh Oh Allora andiamo dritta Allora andiamo dritta Anche più più di questo Altri 6 piazza Allora andiamo dritta Allora andiamo dritta Ehm Non reagire Io davvero andiamo a concentrarsi su altri e parlare Ma io ho due schiaffi Proviamo Non so Insistiamo Questo è Prima di alta Che succede Che succede? Che succede? Che succede? È un complesso militare. È un complesso militare. Lì c'è la luce. Se abbiamo l'elettricità qui, potremmo usare la potenza del tutto. È un complesso militare. Scusate. Apri questa porta. Apri la porta, per favore. Potremmo usare la porta. Potremmo usare la porta. Potremmo usare la porta. Potremmo usare la porta. Ah, qui forse. Qui, guarda. Qui, qui. Ah, stai spendendo i punti? Sì, sì, sì. Ecco, dimmi. Dove? Dove sei andato? Ah, da qua. Lo straccio giallo, lo straccio giallo. Lo straccio giallo. Sì, sì, sì. Ecco. Vengo cartoni? No, non mi dire che non ci passa. Ma vedi un po' se puoi aprire la porta da dentro, scusa. Perché non ci arrivo io lì con la porta. Ah, può essere. Sì, sì. Sì. Aperta. Guarda come sto. Mi vedi? No. Ah, adesso l'ho lasciato il cavo. Quindi bisogna riprenderlo. Andiamo. Riprendi il cavo. Ok, qui. Controlla. Ora, prenderò questo cavo in. Potrebbe funzionare. Ma... Ah, aspetta. Bisognerà fare un altro giro. Aspetta. Ah, ecco, da qua. Da qua. Vedi? Tocchini, tocchini. Vedi? Probabilmente non so molto su Frank e i Nightrunners. Vi owe him wealth. Tutto. Tutto. Ah. Sul tubo, sul tubo. Su per il tubo. Era giù per il tubo. È vero. Vabbè io ti aspetto qui con... cosa tanto. Ma dove... aspetta, dove... Che... E per di là. Ci sei quasi. 21, 20... No, ma... Non è che qua, magari... Se si rompe... Aspetta. Ok, appena tu attivi possiamo aprire la porta. No. No, ma... Ho capito, ma... Qui è bloccato. Qui è bloccato. È bloccato. Ah. E... Ah, ecco, forse... Ah, qui magari... Ah, ecco, qui, qui, qui. Aspetta. Ecco, 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 ecco. Ecco. Sì, ok, forse ho trovato la via. Bene, 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 perfetto. Io l'ho trovata ma era il senso unico. Cioè, in pratica ci stanno a far... A far fai i sorci. No? I sorci che... Si intrufolano ovunque. E se fosse la parte finale questa? Oh. Ma... Ah, ecco, ecco. Aspetta, ci sono, ci sono. Vadi, vadi. Prenda il cavo. Ah. Ho aperto. Ecco. Ecco. Con le gambe lo stai prendendo il cavo, vedo. Ah, ecco. Beh, ovvio, eh. Eccolo le mani. Ecco fatto. Va bene? Sio Alina? Va bene? Contenta? Rilassata? Perfetto? Certo. Reroadio il circuito. Si, ho save la mia vita po' volte. Veronica? potremmo andare? Sì. Proviamocici già e poi fuori da qui. Questa parte. Questa parte. Questa parte. Si, ma... Proprio challa, eh? C'è la mia ragazza. Sì. 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 Guarda secondo me tutto sto cercare e alla fine la troviamo morta, guarda. È qui. Non facile. Molto facile. Che ora? Il terminal è inattivo. Il sistema di seguito è isolato questo area. Eh, credo che sono in l'idea. Ho ho un'idea. Sì, trovi la sala di giù. C'è un seguito di seguito. Ci potremmo potremmo la porta da qui. Tu dovrebbe essere potente usare la chiave di G.R.E. Cosa. 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 Di medio livello. Non me la racconta. Ma queste polveri. Sottili. Sì. Eh. Non si respirano. No. Sì. Ma non ti sembrano strane? Si compenetrano. Eh. Ma c'è gente. Ma dove? Eh. Fai un po'. Ah. Ah. Sono tutti medici. Eh. Capite una gauza? Mmh. Andiamo un po' di qua. Qui. Qui. Aspetta. Forse. No. E' qui. Eh sì. Qui. E' lì? E' lì. E' lì? E' qui. E' qui? Mmh. Da dove ci sei arrivato lì? Per di qui. Dal soffitto. Ah. E' per di qui. Ok. Per di qui. Su soffitto. Aspetti. Aspetti. Ma no. Ma sono. Ma non ci arrivo. Ma sì. Ha fatto? Sono sbucato di qua. Aspetta. Ma. Da. Da uno dei bagni? Ma. Anche io non riesco a salire. Eh. Ah. Da qua. Eh no. Ma non c'è la via qui però. Guardi che sta. Dove ero andata io. Allora. Vada per di là. Si insinui. Non si insinua? Ma no. Di là. E' dove sono arrivato io. Ah. E allora. Andiamo a piedi. Non è da. Da tetto. E' da di qua. Dove stavo andando io? Ah. Ecco. E' qua. Fa inserita. Disattiva. Eh. Boom. Ok. Orion in notturno. Sì. 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 Vabbè. Dobbiamo andare sopra sul tetto. Sì. Ma non incominciare a gridare però eh. E' finito. No? C'è un buco? Ma è strano. Non c'è un passaggio? Ah. Ecco di qua. 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 Qua c'è. Scassina difficile. Ah. Ecco. Allora vai. Facciamo questo. Sì. Vediamo cose. Comunque non ci hanno dato un'arma da fuoco eh. No. No. Forse se ci ha le... Se ci ha le... Vabbè. Lo dico domani ma se si guambroia. Ma no. Secondo me le han tolte. Secondo me le han tolte. Secondo me le han tolte. No. Secondo me se stavamo con l'altra fazione invece ce le davano. La balestra. Al limite. Secondo me. Dici. Secondo me non esistono proprio le armi da fuoco. Dici. Dici. Sì ma l'avevano anche detto. Dici. Però non pensavo che in maniera così esagerata. Cioè dai. Non esiste un'arma da fuoco anche se fossero passate trent'anni. Ma infatti. Cioè possono anche non produrle più. Però il mondo è pieno di armi. Cioè. Strapieno. Possibile che non ne sia rimasta una. Funzionante. Infatti. Ah. Dobbiamo scendere e fare un po' di casino. Sei pronto? Sì 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 sì. oh. Ole. Questa era la cucina comunque. Stavola in pausa. Vada è successo insomma. Allora da qua non si passa. Da qua si passa. Ole. dobbiamo essere presenti tutti tu è un attimo sto scassinando sto scassinando difficile non c'è una cippa in tasso frigo e beh se lo sono maniato dov'è? qua 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 dove sto io apri vai gincane tocca fa ogni volta oh guarda direttrice sapevo io a mid-level GRE doctor my ass seems to be veronica's office you weren't honest with me veronica who's that boy maybe her son aden a funny thing seems there was another veronica ryan director field labs department i was going to tell you why are you helping me? are you working with waltz? waltz? no never even back then i didn't waltz had his own research team but you knew about the experiments how they used kids me and my sister that's why i'm here aden i i cannot forget what we did here that we let you down all those kids in pain and no cure to show for it sure we were five for fuck's sake small children showed natural immunity to the virus we saw a correlation between age brain development and infection severity that's why they were experimenting on you the GRE the world needed you you seemed our only hope i'm sorry i've said that we were special it was a good it was worth it i mean did you even come close to a cure we were close but the virus it finally reached the complex so were you involved in those experiment no the tests on children were all performed at a laboratory here we were gathering data and compiling research i was here when it all happened team members began to turn and things quickly spiraled out of control one by one we were locked inside hiding sneaking around through those dark corridors and ventilation shafts my son he was here with me paul he was five back then too what happened to him i managed to find the shaft leading to the main entrance i told paul to wait for me i kissed him and i told him to wait until i made sure the entrance was safe he clung to me didn't want to let me go when i came back for him he was gone i was only away for fifteen minutes i spent the next week looking for him and then the rest of my life crying i should have known he was a kid scared alone i'm sorry you were trying to take him out of here how could you know anyway we all have our own stories of the past let's concentrate on what happens next it's already passed he was crying he was desperate yes two seconds okay let's go let's go let's go let's go let's go let's go ma aspetta un attimo vieni qua che eh direi che possiamo salutare ah eh si si giusto giusto intanto Veronica va da sola lasciamo andare Veronica ciao fai tutto te e poi ce lo dici ma quella sta continuando ad andare guarda eh si in effetti vabbè si fermerà vabbè ecco si sfermata sfermata finis è arrivata ok e allora ci risentiamo la prossima volta ciao a tutti ciao a tutti ragazze ragazzi ciao a tutti Grazie a tutti.